Sono giornate molto importanti perché il tema dell'agenda digitale finalmente è arrivato a Palazzo Chigi questo governo per la prima volta ha voluto portare a Palazzo Chigi nella responsabilità diretta del Presidente del Consiglio la questione dell'agenda digitale, questo è fondamentale, è una nostra richiesta da tempo perché riteniamo che serva un grande sforzo politico e un grande impegno per poter far sì che le pubbliche amministrazioni cambino e si rivolgano a internet come un grande strumento di lavoro di efficienza e anche dal punto di vista del Paese serve formazione, servono giovani che lavorino in questo ambito servono molte iniziative per le quali è indispensabile che ci sia un forte impulso e l'impulso non può che essere l'impulso del Presidente del Consiglio questo è sicuramente una cosa molto positiva da questa giornata di confronto ovviamente escono fuori molti contributi nuovi sul tema dell'agenda digitale per lo sviluppo di questa grande opportunità per il nostro Paese e ovviamente sono tutti i contributi che devono oggi finire però in progetti precisi che possono dare una concretezza all'agenda digitale in Italia perché dobbiamo essere in grado oggi di misurarci con quelli che sono gli obiettivi europei noi nel 2015 abbiamo delle scadenze molto importanti non meno importanti di quelle del bilancio pubblico a queste scadenze dobbiamo attrezzarci per poter arrivare puntuali con le carte in regola grazie a tutti